La data precisa ancora non è stata definita, ma sappiamo che la Calabria tornerà al voto fra il 10 febbraio e il 15 aprile 2021 per il rinnovo del Consiglio regionale. Lo ha stabilito il Consiglio dei Ministri, che ha dato il via libera al rinvio della tornata elettorale a causa dell'emergenza Covid. Dopo la morte della Presidente Santelli, dunque, i calabresi dovranno aspettare qualche mese per conoscere il nome del successore. Le elezioni, infatti, si sarebbero dovute svolgere entro 60 giorni dal congelo del Consiglio regionale previsto per oggi, ma l'emergenza sanitaria ha fatto sì che l'esecutivo optasse per un rinvio. Fino alle nuove elezioni sarà Nino Spirli ad esercitare le funzioni del Presidente. Sarà dunque un inverno decisamente caldo per la politica calabrese, l'emergenza Covid da un lato, le elezioni dall'altro e certamente la sanità sarà uno dei temi maggiormente in voga nel corso dell'ormai imminente campagna elettorale.